Come state ragazzi? Un saluto a tutti ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella e iscrivetevi anche al mio canale personale che trovate qui sotto nel link in descrizione. Ridendo e scherzando, siamo arrivati al 30 giugno, poi alla fine di questo video vi rimando a quello di Martinelli di questa mattina, sempre un Martinelli molto preciso, puntuale, chirurgico. Il mese è andato, sinceramente ricordo fine maggio, vi ricordate? Dicevamo, maggio è stato pessimo per risultati, eliminazioni, piazzamento, sconfitte, il fatto che avevano vinto lo scudetto, eccetera, eccetera. Speriamo in giugno, dai, giugno è stato l'ufficialità di Fonseca ed è stato pessimo. Quindi giugno è andato, ce ne restano due, luglio e agosto, luglio e agosto, vediamo un po', un po' approfondiremo anche questo tema perché vedo molte mancanze, sinceramente. 30 giugno significa anche saluto ufficiale a Olivier Giroud e a Simon Kier che fin qui effettivamente non sono stati, beh Kier ha finito pure la sua avventura, credo che non sia mai quasi sceso in campo, verifico. Con la Danimarca, devo dire che, insomma, non hanno, non hanno, fin qui non, Giroud non è protagonista con la Francia e Kier, capiamo anche perché ha finito con il Milan, sì, non ha mai giocato, non ha mai fatto una presenza, chiude con 0 minuti. Quindi, detto questo, ecco, un in bocca al lupo da oggi ufficiale ai due. A proposito di 0 minuti, ieri si diceva, vedevo la partita con Mirko Palo, dicevo, occhio magari entra Ocafor e ci segna, manco è entrato ieri, è vero che non avevano bisogno di mettere attaccanti perché, beati loro, erano sul 2-0. Però, dopo quattro partite, Ocafor ha lo stesso mio minutaggio negli europei, cioè 0 minuti, e anche il vostro, a meno che ci veda qualcuno che ha giocato e che ha fatto minuti negli europei. Sembra che lui debba migliorare in allenamento, quindi quello che gli viene contestato mi sembra incredibile, è un allenamento, l'ha detto anche Senderos, credo, è il fatto che in allenamento probabilmente non faccia quello che deve. Non so se a livello di impegno, di tattica, in ogni caso è un gran peccato perché i giocatori di 24-25 anni diventano più grandi, anche passando dalla presenza attiva in queste competizioni, dal partecipare, dal giocare. Se avevamo speranze prima dell'europeo, di curiosità, rischia di tornare un Ocafor intristito. Ed è comunque un peccato anche perché è un giocatore del Milan che credo il prossimo anno potrà magari entrare un po' di più nelle rotazioni, perché no? Detto questo, ragazzi, a proposito di là davanti, vi segnalo che, beh, l'avete visto, poi ieri non ho fatto tempo a parlare, Armando Broia ha parlato con gli occhi a cuoricino nei confronti del Milan. Se mi chiamasse Ibra, direi che sono su un grande tifoso, il Milan è secondo soltanto Real Madrid. Ecco, Armando Broia, la storia del Milan, a differenza di Cardinale, la conosce. E sa che il Milan, per storia, per trofei, per blasone, è secondo soltanto Real Madrid. Cosa che nel frattempo Cardinale avrà imparato. Detto questo, potrebbe essere un attaccante di scorta, chiaramente non l'attaccante titolare. Vediamo se questa volta, insomma, questo matrimonio sa da fare oppure no. Sicuramente in questo momento il Milan sta parlando con il Chelsea, di Shukwemeka, di Lukaku e anche di Armando Broia. Però sono questioni che credo si possano sbloccare ad agosto. Cioè quelli che si spostano in prestito sono eventualmente ad agosto. Perché il club che vende ha interesse ad aspettare magari un'offerta così che è in cassa e non lo regala. Quindi non mi aspetto cose molto diverse. Oggi la Gazzetta scriveva... Ah, poi vi devo far vedere una cosa. E chiudiamo sul discorso futuro di Cardinale. Vi devo far vedere una cosa appunto tra poco. E oggi la Gazzetta scriveva Orighi per finanziare Lukaku. Ora, con tutto il bene... Ah, poi devo dire un'altra cosa anche, mi è molto piaciuta. Con tutto il bene, ecco... Il Milan vuole risparmiare i 4, più monetizzare qualcosina. Ragazzi, qui se riusciamo il prossimo anno a non vedere nel Milan Orighi... E' grasso che cola. Riuscire anche a monetizzare mi sembra impensabile. Pensare di finanziare l'operazione Lukaku con la partenza di Orighi... Mi sembra sinceramente pura follia. Pura follia. Orighi arriva da due anni pessimi... E quindi, se va bene... Lo regali... O lo dai in prestito... Pagando magari anche una parte di ingaggio. Se ti va proprio di lusso... Secondo me, risparmi l'ingaggio. Ma andare oltre no. Quindi, il discorso Orighi e out... Lukaku in, secondo me proprio non regge. Su Lukaku bisogna aspettare... Ripeto, eventualmente agosto potrebbe essere l'occasione di agosto... In prestito. Se il Napoli se lo prende prima... Acquistandolo... Ovviamente... Non se ne può fare nulla. Io ragazzi... Ecco... Sono uno... Di natura... Fiducioso, ottimista... Però confesso che sto... Traballando... O forse... Ho traballato... Cioè... Adesso... Adesso vorrei anche io i fatti, sinceramente. Cioè... Li volevo già a giugno. Adesso siamo a luglio. Tra... Tra otto giorni... Il Milan si ritrova. Arriverà un nuovo allenatore. Cerchiamo di dargli una squadra un po' più completa, no? E di non fargli trovare lì le briccioline. Ecco... Quindi... Vediamo un po' che cosa succede. Detto questo... Si attendono sviluppi anche sul fronte Ben Nasser... Con questa offerta araba che il Milan si attende questa settimana... Si aspetta questa settimana meglio, scusate... Per Ben Nasser... Che è uno dei possibili bivi di mercato... Così come Malik Chao... Ieri ho realizzato poi un video con anche il montaggio... Se l'avete ancora visto potete vederlo... Con... Quello che potrebbe essere un super Milan sostenibile... Con anche delle cessioni... E... Un impatto economico minimo... E sarebbe un super Milan a livello sportivo... Che è quello che ci deve interessare... Vediamo un po' che cosa ne pensate... Poi vi faccio vedere una cosa... Una curiosità... Dal tweet di Daniele Speranza... La nuova maglia del Milan... Ripresa da... Un sito che non riesco a leggere completamente... Chiedo scusa... Questa... Bianca... Con... I bordini... Rosso-neri... Anche sul colletto... Il logo non rosso-nero... Ma bianco e nero... Lineare... Semplice... Insomma... Poi la devi sempre vedere indossata... Per capire l'effetto che fa... Vista così... Una bella maglia... Sì... Mi piace... Poi ovviamente... Anticipo i vostri commenti... Dipende sempre da chi la indossa... Eh... Eh... Su questo... Non ci sono... Grandi dubbi anzi... Quindi... Ragazzi... Mi vedete oggi un po' più... Con toni dimessi... Eh... Boh... Da domani si potrebbe iniziare a pagare la clausola di... Di... Di Zirzee... E apriamo questo... Ma a me piacerebbe addormentarmi stasera... Dormire bene... Senza che mia figlia si svegli e mi svegli... Quindi... Non dormirò bene... E... E svegliarmi con... Un'accelerata per Zirzee... Ce lo portiamo a casa il primo luglio... È stato tutto uno scherzo... E il primo luglio si può esercitare la clausola... Non lo esercitiamo... Mi piacerebbe tantissimo... Non credo che sarà così... Poi martedì... Quindi dopo domani... Zirzee gioca... O non gioca... Contro... La Romania... Potrebbe anche essere eliminato... E da quel momento in poi... Se viene eliminato... Quindi Gufate l'Olanda... Così anche Reinders torna a casa prima... E si mette a disposizione prima del nuovo tecnico Fonseca... Se viene eliminata... Da mercoledì a ogni giorno... Secondo me diventa cruciale... Per Jay-Z Joshua Zirzee... Per seguendo nel video... Volevo... Citare... Il tweet del mio direttore... Allora... Che scrive... Il mio direttore QSWS... Fabio Ravezzani... Che scrive... Poi se volete scatenarvi ancora con... I commenti sulla nazionale... Benvenga... Ah una cosa... Ero molto d'accordo... Sono stato molto d'accordo stamattina... Nel video di Martinelli... Con un passaggio... E poi anche con qualche commento... Cioè... Ma mai possibile che soltanto... Noi abbiamo problemi con i procuratori... E il procuratore di Taremi... E il discorso sulla commissione di Turam... E il procuratore... Chi è i rapcian... Perché gli altri non hanno mai problemi... Qualcuno ha scritto... Perché quelli del mestiere Giuntoli... E Marotta non hanno mai problemi... Perché in questi casi... L'esperienza fa la differenza... I rapporti... Lo storico... La consuetudine a lavorare con certi agenti... E o dirigenti... Soltanto noi abbiamo sempre problemi... Con queste cose qua... Sarà un caso... Non è un caso... Il prestito... Che gli ha concesso Elliot... Cioè... Senza i soci che finora ha cercato in vano... Il problema è davvero grosso... Qualcuno ha idee in proposito... Ci sono un po' di commenti sotto... Ad esempio... Rifinanziamento del vendor loan... Rifinanziamento sul mercato... Emissione di un bond... Aumento di capitale... Ecissione di quote... Quindi queste sono le varie soluzioni... Dipende però sempre da Elliot... Che cosa vuole fare... E poi in tutto questo... C'è anche il finanziamento sul nuovo stadio... Cioè quindi lo ha bisogno di soldi da restituire... E anche per finanziare lo stadio... Non è... Non è la situazione da poco ragazzi eh... Quindi poi a quel punto... A oggi... Sapete che lui... Ha cercato e trovato anche investidore mondo arabo... Poi ci è scoppiata questa... Indagine ancora aperta... Chissà cosa staranno facendo... Per passare così tanto tempo... Il discorso è... Momentaneamente saltato... La sua speranza secondo me è quella... Altrimenti Elliot potrebbe dire... Non rifinanziamo... Ci riprendiamo il Milan... Facciamo un'ulteriore plusvalenza... E magari venda un altro proprietario... Mi verrebbe da dire... Speriamo eh... Mi verrebbe da dire... Speriamo... Perché poi se Elliot si riprende il Milan... Non credo che si voglia mettere dentro il Milan... Credo che a quel punto venderebbe Elliot... E non Cardinale... Insomma... È una vicenda che va monitorata... Nel frattempo... Tic tac... Tic tac... La clessidra scende... Non c'è un contro la rovescia di giorni... Ma siamo ormai a... Tredici mesi... Che poi non è una cosa che puoi fare... Tra dodici mesi e mezzo... È una cosa che devi fare prima... Quindi diciamo un anno... Un anno che può segnare il futuro del Milan... Spero positivamente... Perché secondo me il Milan merita un futuro... Con un proprietario diverso... Che idea vi siete fatti di quello che accadrà? Sapevo anche che c'era stato qualche problemino con Elliot... Divergenza di veduta... Anche su investitori eccetera eccetera... Vediamo un po' che cosa succede... Ci giochiamo anche questa partita qui... Extracampo... In questo anno che... Che arriverà... Personalmente non ho fiducia... In Cardinale... Lo sapete... Anche se qualcuno ha detto... Dovresti criticare la società... Sono un aziendalista... Alla faccia del bicarbonato di sodio... Ditemi di tutto... Commentate numerosi... Lasciate un bel like... Iscrivetevi qui... Vi rimando al video... Del sempre chirurgico... Leonardo Martina... Di La Voce del Diavolo... Iscrivetevi anche al mio canale... E al personal like... Vi metto qui sotto nel link in descrizione... Grazie e un abbraccio a tutti... Forza minore oggi più che mai... Domani ancora di più... Ditemi anche della nazionale... Disastrosa... Ciao...